Domenico Ranieri, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Nola. Si sono conclusi oggi i primi corsi della SAF, della Scuola di Alta Formazione della Città Metropolitana. Quali sono gli obiettivi raggiunti con queste prime due specializzazioni? Sicuramente l'obiettivo principale era quello di far partire questa scuola, perché è un progetto importante. Farla partire significava fare un grosso investimento in termini di sacrificio, e quindi in termini di organizzazione è uno strumento sicuramente importante che ritroveremo per il futuro. Certamente dei meccanismi devono essere affinati, devono essere ancora di più implementati, però ritengo che il risultato raggiunto, almeno a sentire la soddisfazione dei partecipanti, è veramente interessante. Più specializzazione e meno competenze generiche, verso quale ruolo si avvia la figura del commercialista? Io partendo dal presupposto dell'ottimismo rispetto a quella che è la categoria, perché a me poi sentire dire sempre che la categoria è un periodo di difficoltà, adempimenti, problematiche varie, io penso in maniera diversa. Penso che c'è ancora tanto da lavorare, dobbiamo essere pronti, pronti con la specializzazione, ma se anche il sistema politico ce lo consente, perché sappiamo che non ultimo a novembre scorso al Senato i politici non hanno voluto la specializzazione per i commercialisti. Per cui a voce alta, forte, la chiederemo e sono convinto che poi alla fine rappresenterà un'ulteriore nicchia di mercato, soprattutto per i giovani professionisti, e quindi forza SAF e forza specializzazioni.